Amici sportivi bentornati alla C-Sport. Partiamo subito dal calcio, quello di Serie B. Anche qui, salvo clamorosi sviluppi, si ripartirà domenica a fare i puntati in Calabria ovviamente sul Crotone. Sarà un esordio, quello dei Pitagorici con il botto. Si comincia lunedì nel posticipo contro il Cagliari. La Serie B finalmente riparte. Lo fa con un elenco di squadre, 22, rinnovato per via delle vicende legate al calcio scommesse, che hanno fatto slittare l'inizio di un campionato più equilibrato che mai. Le piazze importanti non mancano, le partite di cartello neppure. Già a partire dalla prima giornata che si disputerà eccezionalmente di domenica, nel giorno in cui riposa la Serie A. La Calabria tifa tutta per il Crotone. L'esordio dei Pitagorici è da non dormirci la notte. Il rosso-blu di Juric, reduce da un precampionato soddisfacente, inaugurano il nuovo torneo contro il Cagliari. La squadra che più di tutte ha intenzione di ritornare in fretta nella massima serie. La squadra sarda è una corazzata, quella calabrese un'incognita. Mister Juric punta su gruppo e calore del pubblico. La prima di Cagliari e Crotone sarà in posticipo, fischio d'inizio, lunedì alle 20 e 30. E in Serie B ci sarà anche una novità curiosa. Il cartellino verde per i calciatori più corretti. Saranno premiati infatti i giocatori maggiormente corretti durante l'intero svolgimento del campionato. A differenza dei cartellini rossi e gialli finalizzati a sanzionare le condotte antiregolamentari, il cartellino verde avrà natura premiale. Tutte le volte che un calciatore si distinguerà nel corso di una partita per gesti di assoluta correttezza e lealtà sportiva. Aspetterà l'arbitro a notare sul proprio referto il nome del calciatore, resosi protagonista di un gesto di inopinabile fair play. E poi ci saranno anche dei premi che però ancora non sono stati svelati. Bella iniziativa nel campionato di Serie B. In Lega Pro anche qui davvero tanti punti interrogativi. Ma si ripartirà domenica. Esordio in casa per Catanzaro e Cosenza e ieri è avvenuta la presentazione ufficiale della squadra silana. Una serata a tinte rosso-blu. Anche il castello Normanno Svevo di Cosenza si è tinto dei colori ufficiali del club Cosenza Calcio. Serata di presentazioni ufficiali in Rivalcrati. Grandi ovazioni per chi è rimasto e per chi è arrivato. Se i primi, protagonisti lo scorso anno di una clamorosa rimonta in campionato e del successo in Coppa Italia di Lega, sono una certezza. I secondi ancora hanno tutto da dimostrare. La fiducia però non manca ed è bastato guardare e sentire l'entusiasmo e il calore prodotto dalle decine di tifosi accorsi nella parte antica della città Abruzia per accorgersene. Grandi cori hanno accompagnato un finale da brividi nel ricordo dell'uomo simbolo della Cosenza sportiva, Gigi Marulla, scomparso recentemente. Sul palco anche il tecnico rosso-blu, Giorgio Rosselli, forse l'uomo che ha ricevuto più applausi da tutti. D'altronde, se il Cosenza lo scorso anno ha salvato la pelle in terza serie, la gran parte del merito è il suo. Cosenza che domenica, salvo clamorossi sviluppi, darà il là in casa alla nuova stagione. Al Gigi Marulla sbarcherà il Martina Franca. Le ferie sono finite. Ora si torna a fare sul serio. Dalle 10.30 di questa mattina negli uffici del Collegio di Garanzia del CONI si sta decidendo il futuro del campionato di Lega Pro. Seregno, San Benedettese, Forlì, Gubbio, Taranto, Viterbesse, Fondi sono le società che hanno chiesto di riportare il format della Lega Pro a 60 squadre dopo averlo ridotto a 54. Ci saranno loro da una parte, dall'altra Teramo, la Mezzia Terme, quindi la Vigor e Torres, Abruzzesi, Calabresi e Sardi chiedono invece che vengano annullate le sentenze della Corte federale d'appello che le ha retrocessi rispettivamente in Lega Pro e in Serie D. Si corre il rischio di strappare i calendari già diramati e di ricominciare tutto da capo con nuove iscrizioni e nuovo mercato per almeno sei società. Si attendono notizie ufficiali nella tarda serata. E adesso i motori con 160 piloti iscritti alla 17esima cronoscalata del Reventino. Domani le verifiche tecniche, sabato le prove ufficiali e domenica la gara. Si alza ufficialmente il sipario sulla 17esima cronoscalata del Reventino. L'evento valido per la seconda finale del campionato italiano velocità montagna sud vedrà impegnati ben 160 iscritti. Tra i partecipanti spicca il neocampione europeo Simone Fagioli. Tra i principali concorrenti Christian Merli e Domenico Scola Junior, leader tra gli under. Porteranno alto il nome della Calabria il catanzarese Francesco Ferragina, il castrovillaresse Rosario Iaquinta e il giovanissimo pilota reggino Luca Ligato. Folta la rosa anche dei piloti siciliani. Dalla vicina isola sono sbarcati sulle alture di La Mezzia Terme il campione Domenico Cubeda e due fonticelli Francesco e Vincenzo. Domani pomeriggio le verifiche tecniche e sportive. Sabato le prove ufficiali. Domenica la gara vera e propria lungo i 6 chilometri di rettilinei e tornanti che da Contrada a Magolà porteranno i riders a Platania. Bene così, con questo è davvero tutto. Grazie per averci preferito. A voi tutti un buon proseguimento. Dalle sue buon passo.